Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video, a questa nuova puntata della rubrica Lure Maniac la rubrica dedicata agli amanti e anche un po' ai malati di esche artificiali per la pesca spinning oggi parliamo di una delle esche che mi ha piacevolmente colpito, uno dei miei ultimi acquisti si tratta del lancio LM95US di casa Caperlan, scopriamo insieme quali sono le caratteristiche principali di questa esche artificiale con la scheda tecnica, le indicazioni della casa e anche quelli che sono i feedback che ho trovato in rete degli utilizzatori, dei pescatori inoltre nella seconda parte di questo video vi mostro quelle che sono le considerazioni mie personali inserendo anche qualche slide di approfondimento per meglio far comprendere l'argomento di cui trattiamo oggi ricordo che questo video, come gli altri che trovate sul canale, sono degli approfondimenti alle guide a manuali che trovate disponibili sullo shop Amazon, l'acquisto di queste guide è l'unico modo per supportare il canale e soprattutto questo progetto partiamo insieme dopo la sigla, andiamo! L'esca artificiale di cui oggi approfondiamo la conoscenza è sicuramente studiata, progettata, ideata da un pescatore perché sia le forme, le caratteristiche di colorazione, di somiglianza realistica al pesce vero e soprattutto le doti di lancio, di balistica e soprattutto di nuoto in fase di recupero sono quelle che un pescatore di spinning esperto ricerca nelle esche artificiali e quindi in questo prodotto, secondo me, è presente un concentrato di tutte queste caratteristiche che rendono vincente un'esca artificiale vediamo insieme nella scheda tecnica quali sono le caratteristiche di questa esca artificiale partiamo subito con le specifiche di questa esca artificiale Ancio LM95US Ancio sta per acciuga, infatti l'esca artificiale è un'imitazione perfetta di una piccola acciuga LM sta per lipless minov, lipless vuol dire senza paletta e minov è qualsiasi esca artificiale che raffigura un pesce foraggio, quindi un'acciuga come in questo caso 95 è la lunghezza, sono 95 mm o 9,5 cm e US sta per ultra sinking, ovvero ultra affondante anche se in seguito ai miei test, alle mie esperienze posso dire che si tratta di un'esca affondante più che ultra affondante ma tranquilli che di questo poi ne parliamo quando affronteremo il capitolo dedicato leggiamo insieme le specifiche misura 9,5 cm, tipologia lipless minov colorazioni disponibili sono due bianco e color acciuga il peso è 22 grammi dotato di due ancorette AMI triple WMC 7554 il peso specifico è affondante, quindi sinking non è dotato di rattling interno quindi per quanto riguarda le sonorità è un'esca silent quindi silenziosa il tipo di bilanciamento interno della pesistica è a pesi fissi è dotato di armatura passante per quanto riguarda invece la sua azione e la profondità di nuoto a cui possiamo far lavorare questa esca artificiale trattandosi di un'esca sinking raggiunge la profondità a noi desiderata quindi va a lavorare sulla fascia d'acqua che noi decideremo di affrontare parliamo adesso delle caratteristiche di questa esca artificiale per quali condizioni di mare per quali spot e con quale attrezzatura noi potremmo usare questa esca artificiale bene, analizziamo insieme tutti questi dettagli con delle indicazioni utili sia a chi da poco si sta avvicinando o vorrebbe avvicinarsi a questa tecnica di pesca ma con dei suggerimenti che potrebbero essere utili anche a chi già utilizza questa esca artificiale e magari sono degli spunti di miglioramento parliamo delle condizioni di mare per le mie esperienze l'ho utilizzata con mare principalmente calmo o poco mosso la sua caratteristica principale è quella di essere utilizzata un po' in tutte le condizioni è un po' l'obiettivo principale di chi ha ideato questa esca artificiale tuttavia per quanto riguarda soprattutto gli spot che io frequento penso che questa esca dia il meglio di sé in queste due condizioni di mare tuttavia nessuno ci limita nessuno ci vieta di poterla utilizzare anche per esempio con mare mosso con mare formato però ecco è un po' un punto debole dei lipless minov perché in assenza di paletta il moto ondoso forte la risacca ben presente eccoci potrebbe limitare il movimento di questa esca artificiale perché non reagisce con vibrazioni quindi potremmo perdere la sensibilità durante l'azione di recupero e quindi è un esca secondo me che ha dei pregi da sfruttare soprattutto in condizioni meteomarine che non siano al limite per quanto riguarda le condizioni meteo ecco in questo caso è una sua particolare efficacia quella di essere lanciabile con poco sforzo anche in condizioni di vento teso quindi è un'esca ideale per tutte le condizioni meteo soprattutto e anche quelle un po' più difficili che mettono in difficoltà altre esche artificiali per esempio palettate per quanto riguarda gli spot invece anche in questo caso possiamo utilizzarla su tutti i fondali dalle spiagge alle scogliere alle foci e in tutti gli strati d'acqua perché noi possiamo farla lavorare in superficie sulla mezz'acqua o andando a sondare andando a scandagliare gli strati più profondi della colonna d'acqua quindi a prescindere dagli spot dove siamo è un'esca che possiamo utilizzare a 360 gradi ovviamente dobbiamo fare sempre attenzione sui bassi fondali evitare che soprattutto in presenza di vegetazione ostacoli semi affioranti noi non andiamo ad incagliare la nostra esca perché comunque una volta lanciata in mare dobbiamo iniziare magari il recupero se siamo su fondali molto bassi dobbiamo iniziare subito per evitare che quest'esca vada ad incagliarsi sul fondo perché è un'esca abbastanza affondante a seconda dell'attività più o meno alta dei predatori quindi dell'attività predatoria nello spot dove andremo a utilizzarla possiamo scegliere di effettuare dei recuperi più o meno veloci sfruttando sia le doti di nuoto sul recupero lineare e soprattutto le doti di caduta infatti durante le fasi di caduta questa esca emette il classico rolling fall ovvero tende a sbandare sul suo asse orizzontale attirando predatori che magari non reagiscono verso altre esche artificiali che noi dobbiamo far lavorare in orizzontale e non in verticale in caduta quindi a seconda dell'attività dei pesci possiamo sfruttare le sue caratteristiche parliamo anche dell'attrezzatura con quale attrezzatura noi possiamo utilizzare questa esca artificiale parlo di canna mulinello e filo diciamo che per i 22 grammi del suo peso possiamo utilizzare un'attrezzatura media ovvero quelle canne che riescono a lanciare e a gestire esche artificiali che vanno dai 15 ai 30 grammi come mulinello dobbiamo accoppiare a secondo della canna che abbiamo il mulinello ideale quindi parliamo di un 4000 un 5000 massimo e come trecciato penso che sia ideale uno 0,16 uno 0,18 massimo con un terminale che va intorno allo 0,30 o allo 0,40 a seconda anche un po' di quello che è il predatore che noi cercheremo di insidiare quindi per questa esca artificiale va bene va più che bene un'attrezzatura media invece se siamo nella in pesca dalla barca per esempio in cerca di pesci più importanti come i tunniti allora dobbiamo aumentare ecco la capacità del nostro mulinello oppure la potenza della nostra canna perché insidiando pesci più importanti che comunque possiamo riuscire a catturare con questa esca artificiale dobbiamo avere quel margine di errore in più che è un'attrezzatura più potente e capace di darci parlando del lancio di questa esca artificiale parliamo anche del lancio quindi delle doti di lanciabilità di queste esca artificiali che sono superiori secondo ogni punto di vista a esche di fascia simili perché è un'esca molto compatta un'esca che con poco sforzo riusciamo a lanciare a lunghe distanze anche in presenza di vento contrario è un'esca che non è dotata di bilanciamento interno della pesistica mobile ma ci sono delle delle zavorre fisse un'esca non dotata di paletta quindi lipless che possiamo recuperare in diversi modi il disegno della coda è quello classico che abbiamo visto in altre esche simili di casa caverlan c'è un taglio netto verso la coda e questa è una caratteristica sia della forma di queste esche artificiali ma che ci viene in aiuto anche durante la lanciabilità ecco perché una coda realizzata in questo modo riesce a tagliare meglio l'aria soprattutto nelle fasi di lancio con eventualmente un vento teso un vento contrario molto teso durante l'azione di recupero questa esca artificiale non emette vibrazioni quindi durante l'azione di recupero che noi possiamo fare non dobbiamo aspettarci le classiche vibrazioni che possiamo avere utilizzando il minov oppure i jerk dotati di paletta perché è proprio la caratteristica di queste esche non abbiate paura che non sentendo le vibrazioni possiamo immaginare che l'esca non lavori bene ma è un'esca destinata a non emettere vibrazioni è un'esca silent quindi priva di rattol interno ok questo rumore non sentite nessun rumore quindi può essere utile verso quegli spot ad alta pressione di pesca dove magari i pesci si sono abituati un po' anche a suefatti alle vibrazioni ai rattling delle altre esche artificiali e quindi non reagiscono più verso di esse e quindi è un'esca da provare anche all'interno dei porti per esempio dove ci sono già tanti altri pescatori con un'esca simile silent possiamo avere quell'opzione di scelta per smuovere i pesci magari un po' più apatici oppure che non reagiscono più ad altre esche artificiali per quanto riguarda le ancorette è dotata già di serie di due ancorette ben studiate ben bilanciate con l'esca artificiale tuttavia se noi intendiamo effettuare delle battute a pesci di mole più importanti come ad esempio le grosse lecce amia o ad esempio i tunnidi è consigliato sostituirle con degli ami singoli questo ci darà un margine di errore in più soprattutto per pesci di grande mole non ne abbiate paura perché è un'esca che comunque è dotata di armatura passante che è un plus ulteriore per la ricerca e per l'efficacia verso i grandi predatori del mare parlando di esche artificiali lipless dobbiamo fare una precisazione perché si si tratta di esche artificiali non ideali per chi da poco si sta avvicinando vorrebbe avvicinarsi alla pesca spinning perché sono delle esche tecniche esche che per riuscire a farle lavorare bene c'è bisogno di un minimo di manualità verso quello che è la tecnica di recupero quindi la cercata la twitchata niente che non si possa imparare assolutamente vediamo adesso quali sono le principali tecniche di recupero che noi possiamo effettuare con le esche lipless la prima la più facile da fare è quella lineare possiamo accelerare o diminuire la velocità semplicemente una volta lanciata l'esca artificiale iniziamo il nostro recupero e aumentiamo o diminuiamo la velocità del nostro mulinello durante l'azione di recupero questa è quella base diciamo quella ideale un po' per tutti ma nessuno ci vieta di far lavorare questa esca con delle piccole cercate con delle twitchate oppure di farla lavorare in verticale una volta lanciata la nostra esca artificiale la facciamo scendere sulla fascia d'acqua dove vogliamo insistere la nostra azione di pesca la facciamo nuotare linearmente nel frattempo lei comunque tenderà ad avere una lenta risalita e poi ecco possiamo fermarci e riscendere di nuovo magari se siamo in zone dove sappiamo essere dei predatori su una determinata fascia d'acqua grazie a questa esca artificiale possiamo andare diretti su questa zona e riuscire a far smuovere quei pesci che non riusciamo a raggiungere con altre tipologie di esche artificiali altre due tecniche di recupero sono quella twitching e quella skipping la twitching è una cercata di punta della nostra canna quindi è qualcosa di meno potente rispetto alla cercata classica una volta lanciata l'esca artificiale aspettiamo sempre che l'esca raggiunga la profondità dove vogliamo farla lavorare e poi iniziamo il recupero intervalliamo con dei piccoli colpi di polso non di braccio la cercata è più un movimento di braccio mentre la twitchata è un movimento che tende a far lavorare la punta della canna a seconda della forza dell'intensità della twitchata l'esca artificiale reagirà con delle sbandate più o meno ampie e questo è un modo di muovere l'esca artificiale che in tanti casi stimola il predatore soprattutto quelli che seguono l'esca artificiale senza mai decidersi ad attaccare a superare l'attacco decisivo quindi occhio a questo tipo di recupero perché mi ha salvato da tanti cappotti soprattutto nei confronti di pesci serra molto maliziosi l'ultimo tipo di recupero che volevo proporvi è quello skipping ovvero quello fatto schizzare sull'acqua con i lipless ma anche con altre esche artificiali come ad esempio i jig i jig minov noi possiamo utilizzare il recupero skipping una volta lanciata la nostra esca artificiale non aspettiamo che l'esca cada ma subito chiudiamo l'archetto canna alta e iniziamo un recupero abbastanza vivace sia come quantità di cercate twitchate ma anche come velocità quindi facciamo in modo che l'esca schizzi letteralmente sull'acqua e crei quella scia di bolle quel rumore quel fruscio che in tante occasioni stimola predatori che si trovano nelle fasce più alte della colonna d'acqua oppure ecco che sentono un pescetto schizzare sull'acqua e magari vengono da altre zone che possono essere più lontane oppure dagli strati più profondi il recupero skipping è un altro tipo di recupero che noi possiamo fare con questa tipologia di esca artificiale e che stimola il predatore più in attività parliamo adesso di quelli che sono i pro e di contro principali che secondo le mie considerazioni le mie impressioni in pesca mi sento di dire a voi che seguite planet spin fishing tra i pro principali c'è sicuramente la forma e le colorazioni realistiche si tratta davvero di un'esca artificiale che nel momento in cui la vedete già in negozio come è successo a me in tanti casi ecco vi innamorate di questa esca artificiale talmente ben fatta ben proposta che comunque stimola a provarla un altro pro principale è la distanza di lancio che noi riusciamo a fare con questa esca artificiale che è superiore alla media di tante esca di simile fascia inoltre possiamo far lavorare questa esca artificiale alla profondità d'acqua a noi ideale quindi con un'esca artificiale noi possiamo coprire tutte le fasce d'acqua e questo non è una cosa da poco soprattutto per chi utilizza altre esche artificiale sa bene che potrebbe essere un limite in altri modelli un'esca che secondo me è molto affidabile grazie alla presenza al suo interno della struttura metallica passante inoltre penso che un altro suo pro sia la misura che 95 mm che è ideale sia per prede di piccola o media taglia ma anche per simulare pesci più grandi pesci di grande mole quindi è una misura ideale parliamo adesso anche dei contro che in seguito ai miei test alle mie prove e un po' ai rumors che vengono dal web ho potuto constatare in merito a questa esca artificiale al lancio 95 di casa capperland purtroppo è un'esca che viene realizzata in due sole colorazioni c'è questa color acciuga e c'è la colorazione bianca diciamo che è un po' un limite di questa esca artificiale che comunque va a coprire quelle che sono le principali richieste da parte dell'utenza un altro contro è relativo non tanto a questa esca artificiale in se stessa ma alla tipologia al modello perché il lipless è tendenzialmente un'esca tecnica quindi non ideale per chi da poco si sta avvicinando vorrebbe avvicinarsi alla pesca tuttavia niente che non si possa imparare con un po' di pratica ma è un limite proprio del lipless in sé per sé infine come contro trovandomi nello store Decathlon mi aspettavo di riuscire a comprare quest'esca artificiale ad un costo minore diciamo che non si tratta di un'esca low cost tuttavia per quelle che sono le caratteristiche costruttive di qualità e del rapporto che abbiamo con il prezzo si tratta comunque di un buon rapporto e trovandomi a rifare l'acquisto sicuramente l'avrei sicuramente fatto veniamo adesso alle considerazioni personali in merito all'utilizzo che ho fatto personalmente di questa esca artificiale come avrete potuto capire è un'esca che mi ha piacevolmente soddisfatto nelle mie situazioni di pesca e la ritengo un jolly da poter utilizzare sia verso una grande varietà di pesci predatori ma anche di situazioni meteomarine e di spot per racchiudere a 360 gradi quelle che sono le possibilità di scelta in cui possiamo utilizzare quest'esca artificiale direi che un'altra caratteristica principale è quella della somiglianza realistica che è capace di ingannare secondo me anche i predatori più astuti però la particolarità di utilizzare un pescetto così simile al pesce vero è quello di riuscire a catturare prima il pescatore quindi l'utente che cosa succede come ho detto già anche in altri video se il pesce artificiale cattura il pescatore il pescatore ci pesca con più convinzione per più tempo e quindi è una questione statistica prima o poi ci porterà delle catture che dire l'idea dei progettisti di quest'esca artificiale è quella di utilizzare di creare un'esca da usare nelle più diverse combinazioni di spot di condizioni meteomarine di predatori e secondo me è stata una scelta vincente ed è un progetto vincente che dire ringrazio tutti voi per aver visto questo video ricordo che sullo shop amazon ci sono le guide dedicate alla pesca spinning in mare e non solo l'acquisto di queste guide è l'unico modo per supportare il canale e soprattutto questo progetto non dimenticatevi di iscrivervi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti se il video vi è piaciuto un like lasciatelo e potete commentare per dire la vostra in merito a questa esca artificiale ringrazio nuovamente tutti voi per la visione di questo video e noi ci vediamo il prossimo come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di planet spin ciao ragazzi e alla prossima ringrazio nuovamente